cari amici di veggie channel bentornati oggi vogliamo presentarvi la frutta e verdura essiccata e in realtà questa non è una vera e propria ricetta ma è un consiglio che vogliamo dare ai nostri utenti quindi ascoltatori dei nostri video su alcune modalità per utilizzare quindi mangiare quindi frutta e verdura non soltanto fresca utilizziamo sempre un essiccatore ovviamente abbiamo messo su varie teglie zucchine arance kiwi cipolla vedete anche l'abbiamo già essiccata perché i tempi di essiccazione sono molto lunghi considerate che per essiccare una zucchina ci vogliono non meno di 18 ore a circa 45 gradi ogni verdura e ogni frutta ha dei tempi di essiccazione ovviamente a sé però lo spessore molto importante perché lo spessore quindi di sia della frutta che della verdura non deve essere superiore a un centimetro questo perché più è spessa più i tempi di essiccazione sono molto lunghi quindi calcolate che la temperatura media generalmente di essiccazione è al di sopra poco dei 40 gradi quindi non supera i 50 e quindi ci impiegherebbero molto tempo questo uso diverso dalla frutta e delle verdura serve sia per farsi degli snack portarsi in giro a dare ai nostri bambini preparare dei dolcetti magari corrida un'altra ricetta possiamo insaporire il nostro brodo delle minestre la cipolla in questo caso possiamo una volta essiccata eccola qui in questo caso è cipolla rossa la frittiamo e poi la mettiamo diciamo sopra delle minestre ok o anche ad esempio sopra delle pizze possono essere molto gustose stessa cosa invece per quanto riguarda la frutta la potremmo poi utilizzare anche come decorazione per alcuni dolci quindi ci sono mille modi di utilizzare veramente la frutta e la verdura sia fresca che essiccata l'essiccazione è un modo fantastico per utilizzarla in diverse modalità grazie a tutti e buon appetito grazie a tutti grazie a tutti